Musica Dimostriamo ora il teorema del resto che dalla parola stessa dice che può trovare direttamente il resto di una divisione senza eseguirla Allora, noi abbiamo visto che se abbiamo una divisione di P di X per un binomio del tipo X-A otteniamo un quoziente Q di X e un resto R che non dipende da X perché il grado è inferiore al grado del divisore il grado del divisore è grado 1 quindi questo resto è di grado inferiore e diventa di grado 0 e quindi praticamente è un numero Dalla prova della divisione abbiamo visto che P di X è uguale a Q di X per X-A più il resto Sostituiamo adesso la X l'opposto del termine noto del divisore quindi P di A uguale a Q di A per A-A più R A-A è 0, per Q di A si annulla quindi rimane P di A uguale ad R Quindi che cosa abbiamo dimostrato? Che per trovare direttamente il resto della divisione di P di X per un binomio del tipo X-A basta sostituire alla variabile X l'opposto del termine noto del divisore e troviamo direttamente il resto di questa divisione Grazie Grazie Grazie